Riprende il cammino della Cimberio Varese nella Serie A Becco, la capolista dopo lo stop a Siena batte a domicilio Bologna, approccio molto positivo da parte della formazione di Vitucci, 31 a 9 ad un solo minuto dal termine del primo periodo per i padroni di casa. Ma gli emiliani non mollavano, nella ripresa grazie all'incontro parziale di 23 a 7 rientravano a meno uno, altra reazione rabbiosa stavolta della battistrada, 20 a 6 in poco più di 6 minuti e posta in palio in cassaforte, top scorer del confronto Dunston, il lungo è andato negli spogliatoi con 20 punti 8 su 10 dal campo, 7 falli subiti, 6 recuperi e 4 stoppate per una valutazione di 39, preziosissimi come sempre Mike Green 12 punti e 9 assist e Sciacota 11 con 3 su 6 da oltre l'arco. Dall'altro lato, unico giocatore in doppia cifra, capi e forse 10 punti, molto positivo Gigli, 8 punti con 4 su 5 al tiro, ma 14 rimbalzi e 4 recuperi per una valutazione di 23, Varese ha tirato meglio 53% da 2 e 38 da 3, pesano i 20 palloni persi dalla 6 e 3, in classifica la Cimberio sale a 32 punti, Bologna resta a 14. Grazie 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 Grazie